È un'occasione straordinaria per vedere da vicino alcune cose che sono sempre dietro vetro nelle vetrine, come ad esempio il meraviglioso stipo di ambra che vedete alle mie spalle e che è veramente pieno di dettagli affascinanti. Venite a trovarci spesso e più volte perché è un'occasione straordinaria per vedere veramente da vicino e fuori dalle vetrine degli oggetti di straordinario fascino e che molto spesso sono distanti al nostro sguardo perché per motivi di conservazione sono dietro delle vetrine.